Noi riteniamo di avere modificato l'approccio allo spumante con questo tappo, perché mentre fino a ieri per aprire un bicchiere di spumante bisognava avere un'occasione perché devi berlo tutto, quindi una festa, una celebrazione, una scusa, con questo tappo non ci sono più scuse, lo apriamo, ne beviamo metà, lo richiudiamo, lo mettiamo in frigo, domani vogliamo di nuovo festeggiare e lo riapriamo e lui fa di nuovo puff e quindi non c'è più neanche quel limite che ha avuto lo spumante fino a ieri. Noi siamo un'azienda piccolina, familiare, facciamo più o meno 30 milioni di fatturato in media all'anno con alti e bassi a seconda delle vicissitudini dei mercati in cui siamo, quest'anno siamo in linea con gli altri anni, abbiamo in serbo un paio di idee che secondo noi sono rivoluzionarie, ma non è detto che poi lo saranno perché noi abbiamo idee ogni giorno e la nostra vita è proprio quella di inventare. I nostri prodotti principali, cioè quelli che diciamo ci sostengono, hanno come destinazione l'estero. I nostri due mercati principali sono la Russia e gli Stati Uniti, ma noi abbiamo il chiodo fisso prima o poi di portare anche in Italia questi prodotti che tanti fan hanno all'estero. Stiamo provando in particolare con gli sparcoltini che sono la nostra linea di bevande a base di vino, sono bollicine che hanno un po' di spumante e un po' di malto aromatizzati, vogliamo portarli in Italia, ci stiamo provando attivamente, penso che pian pianino arriveremo anche qua. Il mercato italiano è purtroppo risibile rispetto al resto del mondo. Noi già dal figlio del fondatore a venire in giù abbiamo sempre avuto un'apertura verso l'estero, verso i mercati dove non ci fosse troppa concorrenza, dove i colleghi non andassero troppo a battere e anche con prodotti che sono sempre un po' un'alternativa, sono sempre qualcosa di diverso da quello che propongono i nostri colleghi. Da un paio d'anni ci stiamo concentrando per avere delle idee per poter tornare sul mercato italiano in un modo più presente, soprattutto con questi prodotti che sono delle alternative. Ci stiamo provando in tutti i modi e siamo sicuri che se non è l'anno prossimo sarà quello dopo, ma riusciremo anche a convincere i nostri connazionali a bere i prodotti che sono il core della nostra azienda. Grazie per la visione!